Durante la notte di giovedì, tutti i prodotti destinati all'offerta del Black Friday sono misteriosamente scomparsi dal punto vendita a Mondo Convenienza. È stato Tristano Bit a lanciare l'allarme dopo aver ritrovato l'aria completamente vuota. Poco lontano dal luogo del crimine, al desk d'ingresso, altri due presenti. Il signor Nardo Besic, cliente fidelizzato a Mondo Convenienza, da anni assiduo frequentatore del punto vendita e la signorina... già dal luogo. Regatasi in negozio per una consulenza d'arredo per la sua prima casa. Nel piazzale del punto vendita abbiamo trovato il montatore Sirio Zinus, di ritorno dalla consegna del divano d'acne. Tutti i presenti sono stati sospettati. Ognuno di voi potrebbe essere il ladro del Black Friday. Tristano, il tuo cartellino è stato rinvenuto in un angolo remoto del luogo del furto. Sul muro di quest'ultimo, il segno del passaggio di Giada. Una macchia di smalto sulla parete. Nardo, conosci il punto vendita e i suoi prodotti come nessun altro. Sirio, hai un alibi di ferro. Se non fosse che... Il divano d'acne, quello che dici di aver consegnato la notte del furto, è sempre stato qui. In magazzino. Sirio, il colpevole sei tu, ormai è chiaro. Ma quello che non mi è chiaro è... Perché? Perché hai rubato il Black Friday? È vero. Ho commesso io il furto. Ma l'ho fatto soltanto perché in mondo convenienza va in servo qualcosa di... Grande. Sorprendente per i suoi clienti. Qualcosa di cui... Ne voi. Ne nessun'altra conoscenza. Ma... Mondo convenienza. La nostra forza è il prezzo. E la capacità di stupirvi.